Mi è Paolo Cappiello, toilettatore di Altamura, non è solo campione del mondo 2015 ma è anche campione dei campioni. Il prestigioso riconoscimento gli è stato consegnato a Bellaria durante il Master Show in cui si è disputata una gara Oster con la partecipazione dei plurimedagliati nel settore di riferimento e il quarantenne pugliese è salito sul gradino più alto del podio distinguendosi per merito e professionalità. Ogni cane è diverso dall'altro, tipo sul cocker spaniel, quella che è la categoria che mi rappresenta nel mondo della toilettatura, si applicano tre tipi di tecniche ed è lo stripping, la macchinetta tosatrice e la forbice. Se vogliamo due tipi di forbice, una che è sfoltente, si chiama così la dentata e l'altra la dritta. Tecnica, creatività e passione, la toilettatura è un'arte, mette a risalto le forme e l'eleganza dell'amico quattro zampe, ma al contrario di quanto si possa pensare il fine non è puramente estetico, ha un ruolo essenziale per garantire benessere e salute dell'animale. L'anno prossimo Paolo Cappiello da concorrente sarà giudice della gara internazionale, ulteriore riconoscimento per il professionista pugliese. Pettinate più spesso i vostri cani, dategli un sacco di coccole, loro ci danno tanto amore e ci amano tanto. Con il lui.